ben tornati all'appuntamento con le previsioni meteo di tv 6 per questo giovedì giorno dell'immacolata ci aspettiamo un progressivo peggioramento sulle regioni terreniche il nord per l'arrivo di una perturbazione atlantica che porterà i suoi maggiori effetti durante il weekend tra venerdì e domenica porterà non solo piogge diffuse venti sostenuti dei quadranti meridionali ma anche le prime nevicate a bassa quota al nord per quanto riguarda questo giovedì in abruzzo un'immacolata complessivamente stabile sulle coste le basse quote dove avremo cieli sereni o poco nuvolosi soprattutto al mattino un po di densamenti in più in arrivo nelle aree più interne quindi in apennino soprattutto sull'aquilano centro settentrionale dove non mancherà qualche piovasco specie tra pomeriggio e sera parliamo di piogge comunque sparse di debole entità qualche pioggia in più arriverà nella giornata di venerdì per quanto riguarda le temperature sono attese in lieve aumento le massime tra i 12 e i 16 gradi ulteriore aumento termico tra venerdì e sabato mattina con questo è tutto grazie per l'attenzione arrivederci al prossimo appuntamento grazie a tutti